provate la posizione del contenitore di biorischio c'è io dopo un episodio del genere se fosse un sindaco facessero l'esercito ma peccato che il nostro il sindaco è de magistis comunque ho letto non era oggi non era napoli era un paese in provincia vabbè però sempre qua stiamo sempre al sud e beu sindaco non è de magistris ma io questi ce li facciamo bello dall'entrata sicuro caveira occhio allo spawn kill è brava marco lasciala lì sta bene lasciala chi viene con me al garage unico fuori o fuori che tutti fuori no so di in due sono usciti fuori vanno pazzia facili la pazzia è quello quello che voglio in alto a fangul troia di merda sei morta è morta sta troia finca però finca non mi può curare sta nel mondo stanno all'angolo termite ho bisogno ragazzi mi servono termite toucher che aprono il garage cosa ha scusa aspetta vai ho disattivato io sto coprendo sto coprendo sto coprendo magari io però può essere andare lì non andare lì aperta non andare lì obito non andare mamma mia obbligo la tiscana abito vuoi avviare chi ha buttato la tua moglie ok no non voglio rischio sgamo non ti alzare sgamo non ti alzare sgamo non ti alzare chi è rimasto dove cazzo sta ho colpito marco è lì a destra e ho sbagliato la testa sbagliato la testa sbagliato la testa come cazzo si indica voglio non trovo più il testa no indicare ho premuto destra lanciato il robottino a sinistra dove cazzo stanno è a sinistra non ti consiglio di farlo così strisciando ci stanno aspettando sicuro aspetta ma in qualche modo dobbiamo fare aspetta molto sul robottino ti dico dove sono eccolo la no chi è stato l'accia è lì stata cianca lì giù a destra cianca lì sta fermo sulla aspetta ecco l'acqua l'ucca ho visto l'ho visto bella aiutano e uno e sta barricato lì dentro potremmo serata cianca seta cianca sono stato individuo dove lo trovo ragazzi se lo trovo però trova cadavere ve lo trovo ve lo trovo stato tranquillo aspetta bravo da qui dove sei morto due eccolo qua dietro ragazzi qua dietro è a destra e stava a destra se è entrata in realtà deve per forza uscire fuori a destra subito appena proprio appena entri su da destra dietro non lo puoi prendere perché stasera ma me la faccio strisciando cioè aspe a post ma se è fottuto a l'ho visto l'ho colpito il piede è morto che voglio fare comunque di mio sbaglio bravo bravo vabbè io non lo salvo